Ciao a tutti e benvenuti nel mio video. Sono Kim Kardashian, una delle star più famose e influenti del mondo. Sono diventata famosa per il mio ruolo nella serie televisiva Keeping Up with the Kardashians, che ha seguito la vita della mia famiglia all'interno dell'industria dell'intrattenimento. Da allora, ho continuato a espandere la mia presenza nella cultura pop, con una forte presenza sui social media e un'ampia gamma di progetti imprenditoriali, tra cui la mia linea di bellezza e il mio gioco mobile di successo. Oltre alla mia carriera, sono anche nota per la mia vita privata, spesso al centro dell'attenzione dei media. Ho avuto relazioni con alcune delle più famose star del mondo, come Kanye West, e ho spesso parlato pubblicamente delle mie esperienze personali, ispirando milioni di fan in tutto il mondo. Con una carriera in continua crescita e un impegno sociale e politico che mi rendono un'icona della cultura popolare. Sono sicuramente una delle star più importanti della nostra epoca. Grazie per avermi seguito in questo video. A presto!